Matteo Renzi, eccoci, bentrovato, di nuovo qui alla stampa. Sempre un piacere. Come la devo chiamare, direttore o senatore? Ah beh, se mi chiamo Matteo facciamo prima, però... E' più faticoso fare il senatore o il direttore di un giornale? Direttore, lei lo sa bene cosa significa fare, anzi, buon lavoro a tutta la redazione, al nuovo direttore Malaguti. Fare il direttore è un'esperienza bellissima, però. Ovviamente lei l'ha fatto al mattino, io lo faccio in un giornale molto più piccolo, però è un'esperienza bella perché cerchi di dare un messaggio ogni giorno. Oggi per esempio mi sono divertito a fare la copertina. Perché la copertina la fa lei tutti i giorni? No, non tutti i giorni, però poi c'è Andrea Luggeri, una bella redazione, per oggi l'ho fatta io perché ho messo la foto di... Questo governo sta aumentando le tasse, è una cosa vergognante. E adesso poi lo vediamo, adesso lo vediamo perché... Allora ho messo l'immagine della vecchia campagna di comunicazione di Berlusconi del 2001, meno tasse per tutti, ce la ricordiamo, almeno noi della nostra generazione, e gli ho scritto, ah, quando c'era lui. Perché la destra di oggi è la destra che aumenta le tasse, mentre Berlusconi... Infatti questa era la prima domanda. Se ci fosse stato Berlusconi? Se ci fosse stato Berlusconi che su... Se ci fosse stato Berlusconi col cavolo che aumentava le tasse. Berlusconi non poteva accettare che aumentassero per di più le tasse, l'IVA sui pannolini, sull'assorbente, sui dati in polvere, sulle case hanno toccato la casa. Guardi, con una battuta, Berlusconi pensava sempre alle partite IVA, questi sono diventati il partito dell'IVA, perché stanno aumentando l'IVA. La Meloni è la prima donna, la prima premier, dopo Letta, che aumenta l'IVA. Letta e Meloni, la stessa roba da questo punto di vista. Una delle battute più belle di commento di questa finanziaria è stata sua. Salvini e Giorgetti finché Fornero non vi separi. Che cosa si poteva fare? No, ma io guardi, ieri le ho viste insieme, ero in alto. Non è facile però, eh. No, per Giorgetti soprattutto stare accanto a Salvini, come ho scritto, ma anche per l'altra, a parte invertite. Ho fatto un'interrogazione, un question time, su una questione seria, molto seria, il rientro dei cervelli all'estero, perché poi il mio governo, 2015, con Paduan, ha riportato i cervelli in Italia. Il governo Meloni con Giorgetti fa una legge che sostanzialmente li manda via. Ce ne occupiamo domani sulla stanza. E' una cosa importante, legge 2015, legge Renzi Paduan, legge 2023, sbagliatissima, che è la legge Meloni-Giorgetti. Allora, io faccio un'interrogazione parlamentare, un question time, e per l'appunto si mettono a sedere insieme Meloni-Giorgetti e Salvini, e li ho visti insieme, erano così carini, mentre io un po' li prendevo in giro, perché ho detto, scusate, avevate detto che avreste bloccato l'immigrazione, ma pensavo che vi riferiste ai barconi, invece avete raddoppiato gli sbarchi dei barconi, e avete tolto l'incentivo fiscale per il rientro dei cervelli, ma li ho visti insieme, ciccici, ciccici, gli ho detto, vabbè, sai che c'è, finché Fornero non vi separi, è un piacere vedervi. Al di là delle battute, però, sulle pensioni non era facile, agenzie di rating in agguato, hanno dovuto... No, 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 quindi? Non accetto scuse su questo. Matteo Salvini ha fatto tutta la campagna elettorale del 2012 e del 2022 sulle pensioni, ha massacrato Elsa Fornero fino all'eccesso, e oggi fa una norma, dopo aver detto, se vogliono toccare quota 100, parole testuali, io li rinchiudo in Parlamento, perché non glielo farò fare? Spernacchiatemi se non ci riesco. Oggi Salvini arriva a quota 103, poi forse 104, poi forse 102, siamo alla follia. Matteo Salvini sulle pensioni è il grande sconfitto di questa legge di bilancio, però la cosa incredibile è che sia un ministro della Lega che fa una misura più dura della Fornero, se ci pensate. Ma qual è la lega vera? Quella di Zaia e di Salvini? Quella di Zaia o quella di Salvini? Cioè di Giorgetti e Zaia e Fedriga o quella di Salvini? Ma io queste doppie leghe, queste doppie leghe, alla fine poi sono tutti insieme, fanno sempre la parte di quelli che si dividono, ma insomma Zaia, Fedriga, Giorgetti e Salvini, per quello che mi riguarda, sono la stessa cosa agli occhi della politica, poi sappiamo che hanno caratteristiche diverse, però non ce n'è mai uno che abbia il coraggio di sfidare Salvini e su questo onore a Salvini vince lui, si è blindato al congresso, quindi non credete alle due leghe, la lega è una, il problema è che la lega è una lega che ha una lingua doppia, perché dice una cosa sulle pensioni e poi ne fa un'altra, e mica solo sulle pensioni. Solito caos della manovra, bozze che si rincorrono. Qui c'è una cosa in più però, qui c'è una cosa in più. È sempre successo, no? No, io ho fatto il Presidente del Consiglio per tre manovre. Non era mai accaduto che il 16 di ottobre o qualsiasi altro giorno il Premier e il Vice Premier e il Ministro dell'Economia, quindi Meloni, Salvini e Giorgetti, facessero una conferenza stampa, annunciando che la legge di bilancio era pronta, addirittura dicendo non accetteremo emendamenti dalla maggioranza, che è una cosa leggermente esagerata dal punto di vista parlamentare, e poi a distanza di 11 giorni oggi l'altro Vice Premier, che non so se c'era, se c'era dormiva, che si chiama Antonio Tajani, dice la legge non è ancora chiusa. Qui siamo in presenza di un falso. Utilizzo le parole con attenzione, siamo in presenza di un falso. E tanto lei ha difeso dell'immunità parlamentare. No, no, ma io poi lo dico, ho scritto al Presidente della Repubblica stamattina. Io ho chiesto al Presidente della Repubblica di rivolgere la sua attenzione su questo fatto, perché ieri la Meloni ha detto che lei ha tolto dalla legge di bilancio una norma, è la norma sul prelievo dei conti correnti. Io non so se l'ha fatto o no, perché noi non abbiamo visto la legge, ma se la Meloni dice ho tolto da una norma, lei deve fare una norma, ha tolto una norma, deve andare in Consiglio dei Ministri. Ma non è il solito maxi emendamento che c'è sempre? No, 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 loro hanno ancora da fare il testo definitivo perché è in coordinamento formale. Allora il mio è un appello al Presidente della Repubblica, l'ho scritto insieme ai 16 colleghi del gruppo Italia Viva e il centro Renew Europe, il nostro l'abbiamo scritto questa mattina, e l'abbiamo scritto a Mattarella dicendo caro Presidente, su sta roba buttaci un occhio perché non è pensabile che loro facciano delle modifiche senza passare da un atto formale. Lei dirà, ma chi se ne frega dell'atto formale? No, 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 è molto importante perché la forma è sostanza in democrazia. Che sta succedendo in Forza Italia senza Berlusconi? Un po' l'abbiamo... Era il partito che lottava contro le tasse, oggi è il partito delle tasse. Era il partito che lottava per il garantismo, oggi è il partito che accetta tutte le mediazioni giustizialiste a cominciare dalla prescrizione. Era il partito Forza Italia, io dico sempre scherzando, Contagliani è Forza Italia, sono incerti, balbettano, tentennano, è un niente di personale ovviamente, ma io sono convinto che molti piemontesi che leggono la stampa o che ci stanno seguendo adesso, magari votano degli amministratori, magari votano Cirio con grande convinzione, perché comunque Cirio, piaccia o non piaccia, sta lavorando bene, però contemporaneamente non voteranno mai per una destra sovranista o populista all'europea, non la votano neanche la Forza Italia di italiani. Ragazzi, la Forza Italia di italiani è tutta un'altra cosa rispetto alla Forza Italia di Berlusconi. Poi ci arriveremo quando guardiamo il suo futuro. Le calenda di divorzio impossibile, un divorzio all'italiano, questi gruppi non si riescono a separare? No, non è che non si riesce. Ci vorrebbe una legge sprint tipo quella che è fatta per mani e mogli in Parlamento. Io ho fatto la legge sulla separazione breve e sul divorzio breve, quindi sono molto orgoglioso di questo. Adesso l'hanno ulteriormente semplificata. Però secondo me è giusto, specie quando non ci sono figli. Prima si evitano spese inutili dall'avvocato, prima ci si mette d'accordo, meglio è. Rispetto a questa questione politica, mettiamo le cose in fila. Calenda ha fatto un accordo con Letta e lo ha rotto. Ha fatto un accordo con l'Abonino e l'ha rotto. Ha fatto un accordo con il Terzo Polo, con me, e lo ha rotto. Aveva detto che sarebbe rimasto a fare il consigliere comunale di Roma e se n'è andato. Aveva detto che sarebbe rimasto a fare il parlamentare europeo e se n'è andato. Io con Calenda non c'ho niente contro, ma è uno a cui ho fatto fare. Il viceministro, il ministro, l'ambasciatore, il presidente del Terzo Polo. Tanto per cambiare ha rotto anche il Terzo Polo. Allora siccome è uno che rompe qualsiasi cosa tocca, abbiamo deciso di farla finita con questa telenovela da quattro soldi alla quale lui ci sta costringendo da sei mesi. Io ho detto va bene, vuoi fare la lista insieme alle europee? No. Allora ognuno va per la sua strada, mi sembra corretto. Ora lui non se ne vuole andare. Cioè noi abbiamo firmato per fare il gruppo e lui è lì che siccome vuole prendere qualche decina di migliaia di euro in più, che posso dirlo, che se li prendessi per me non è un problema, sta facendo l'ennesima figuraccia, ci sta facendo fare un'ennesima figuraccia. Però la verità è che Calenda qualsiasi cosa tocca la rompe. E io sono pronto a dimostrarlo. Certo che i due caratteri così forti. Ma non è un problema di caratteri. La storia dei galli del pollaio, due galli del pollaio, una stupiraggine. Ma mi scusi, per favore, i caratteri di che? Io ho fatto il Presidente del Consiglio e ho chiamato Calenda a fare il Ministro dopo che lui aveva perso l'elezione. Non era stato eletto. Perché dobbiamo buttarla sul carattere? Qui è un fatto politico. Carlo Calenda rompe qualsiasi cosa tocca. Allora va benissimo. A me dispiace. Però, siccome abbiamo detto che ci dividiamo, almeno che ci faccia la cortesia di non continuare questa barzelletta ambulante che sta diventando la vicenda dei gruppi parlamentari. Noi abbiamo il nostro gruppo, lui si fa il suo, amici e conti e vissero lontani e felici. E felici. E quindi Italia Viva da sola, da grande, cosa fa? Corteggia Forza Italia? Non ci penso neppure. Italia Viva da grande fa quello che abbiamo sempre fatto. Noi siamo il partito che ha avuto il coraggio di mandare a casa Conte per portare Draghi contro tutti. Lo dico perché anche qui... Aveva la forza in Parlamento. Beh, anche adesso abbiamo la forza in Parlamento. Il problema non è la forza in Parlamento. Il problema è che abbiamo avuto il coraggio politico. Perché la forza in Parlamento... Però c'erano anche i soldati. No, ma il coraggio politico l'abbiamo avuto perché in quel momento lì erano tutti contro. E io ho rischiato, diciamo, l'osso del collo, per non dire altro, perché pensavo che Conte non fosse all'altezza e Draghi sì. E penso che anche chi non mi voterà mai questa cosa me la riconosca. Dopodiché Italia Viva è un partito riformista che non vuole questa destra della Meloni e non vuole questa sinistra della Schlein. Che non vuole questa destra di Salvini e non vuole questa sinistra di Giuseppe... Sinistra. Giuseppe Conte. Vabbè, facciamo finta di crederci. Siccome noi siamo un'altra cosa, noi siamo quelli che sull'ambiente non siamo né con Greta né con Trump. Noi non siamo negazionisti ma non siamo nemmeno catastrofisti. Noi siamo per il Jobs Act e per il lavoro. Non siamo per il reddito di cittadinanza. Potremmo andare avanti per ore. E quindi andiamo avanti tranquillamente se facciamo, come io credo, un bel risultato all'europeo. Il 4%... Io lo do per scontato, spero di fare di più. Io lo do per scontato, spero di fare di più. Il mio è un appello a quelli che devono andare a votare dicendo alle amministrative votate per chi vi vale. Le regionali votate per chi vi pare e anche alle politiche uno vota per chi vi pare. Però alle europee, mi lasci dire, è come quando uno mette la maglia della nazionale, non si tifa più per i club, si manda quelli bravi avanti. Io mi candido ad europeo perché sono convinto di avere qualcosa da fare in Europa. Se volete mandare i sovranisti o quelli per il reddito di cittadinanza, fatelo. Poi se in Europa non si tocca palla, non venite a cercare me. Ovviamente eletto in Europa, è obbligatorio lasciare il posto. Il tema centrale è quello di... lì c'è proprio un'incompatibilità prevista dalla norma, però scegliete quelli che vi sembrano che vanno a governare l'Europa. Vi va bene l'Europa così? Tenetevela. Vi va bene che in Medio Oriente ci vada Biden, che Putin riceva Hamas, che la Cina giochi la partita e il nostro inviato speciale dell'Europa nel Golfo sia Luigi Di Maio. Vi va bene questo? Teneteveli, ribotateli. Se volete mandare persone di qualità che possano discutere, noi ci siamo. Se pensate che non siamo noi di qualità, tenetevi quelli simpatici. Poi ci arriviamo alla guerra. Quanto dura questo governo? Meloni ha appena detto, fatevene una ragione, stiamo anche quattro anni. Ma noi ce ne facciamo una ragione. E lei è l'unica che non se ne sta facendo una ragione. Giorgia Meloni, le facciamo un appello. Cara Presidente Meloni, smetti di farla vittima. Inizia a farla premier, se ti riesce. Perché è un anno che la Meloni ci fa tutte le storie, tutti i giorni da influencer. E una volta ce l'ha perché è la famiglia, e una volta per la figlia, e una volta che i poteri forti ce l'hanno con lei, e una volta ce l'ha con Salvini, e una volta lei non è ricattabile, e una volta c'è il fuori onda. Ora, io capisco. Ma intanto voglio dire che se c'è una persona che non si può permettere di parlare, di chiedere la difesa della famiglia, è Giorgia Meloni. Perché le famiglie degli altri Giorgia Meloni le ha massacrate. Io oggi sono a Torino, faccio vedere un video di quello che diceva Giorgia Meloni su mio cognato. Che, peraltro, dopo sette anni e mezzo di gogna mediatica, il PM, non io, il PM, ha chiesto la sua assoluzione. Quindi tutta la storia famosa dei bambini dell'unici, io mi ricordo cosa ha detto Giorgia Meloni. Me le ricordo le iniziative di Fratelli d'Italia sotto Banca Etruria. Me le ricordo le polemiche contro i miei genitori. Allora, io dico a Giorgia Meloni, io non ti attaccherò mai sulla famiglia, ma tu smetti di farla vittima, butta giù le tasse, anziché continuare a mettere il muso con tutti e contro tutti. Perché sei la Presidente del Consiglio, rappresenta anche lei, e rappresenta anche lei. Questi stanno da un anno continuando a fare polemiche, a lamentazioni costanti che poverini ce l'hanno tutti con loro e però non risolvono un problema. Ha aumentato la benzina, ha aumentato gli assorbenti, ha dato 892 milioni di euro all'Otito, o meglio, non all'Otito. Adesso vediamo se... No, no, questi li ha già dati nella legge di bilancio l'altra volta, alle società di calcio, su richiesta di l'Otito. Lei dice che non è ricattabile, però quando parla all'Otito si mette sempre sull'attenti. Come mai la Meloni quando parla all'Otito si mette sull'attenti? Ha detto una parola, gogna. Non posso non fare una domanda su il caso Gian Bruno, ma il metodo del fuorionda, delle intercettazioni, così... Lei da garantista, no? Fa una battaglia per regolare le intercettazioni. Questo metodo del fuorionda è, perdonate la domanda, di uno sputtanamento, Coram Populo, le piace. Ma lo dice a me? No, perché lo sta chiedendo a me, veramente lei mi sta facendo questa domanda. Perché chi ci segue, lo sai cosa hanno fatto a me? Mi hanno arrestato il babbo, la mamma, indagato il cognato, no, scusi, hanno preso il mio conto corrente, hanno preso il direttorino, hanno fatto il sequestro preventivo, ci arrivo, le rispondo, però non me la faccia più questa domanda, perché se c'è uno in Italia che ha subito gli effetti di quello che è il caso in specie, l'effetto di quello che lei chiama tecnicamente come l'ha chiamato lo dica fuorionda, no, lei l'ha chiamato sputtanamento, però voglio dire, quello lì io l'ho patito sulla mia pelle, figuriamoci se io sono d'accordo, il giorno stesso ho scritto a Gian Bruno ho scritto alla Meloni, perché io su queste cose ho prima di tutto una dimensione umana e credo di conseguenza che in questa vicenda la priorità sia una bambina che è la figlia non del presidente del Consiglio e di un giornalista Mediaset ma è la figlia di Giorgia e di Andrea e quindi io penso che la priorità sia quella bambina lì, non ho dubbi su questo, però una volta che ho detto questo possiamo dire alla Presidente del Consiglio che da me non ha mai ricevuto mezza parola su sta storia qua, mezza, se non un sms di affettuosa solidarietà, però può governare per piacere anziché dire che c'ha i poteri forti? Può fare la Presidente del Consiglio perché non abbassa le tasse? Perché aumenta la benzina? Perché aumenta il latte in polvere? perché aumenta i pannolini? Perché aumenta gli assorbenti? Perché hanno aumentato le tasse sulla casa? Allora, il modo serio per affrontare seriamente la Meloni è dirle Giorgia fai la Presidente del Consiglio se sei capace, lei è un'ottima influencer, lei viene via dal G7 per tornare di corsa in Romagna, si ricorda quella immagine? Bellissima, aveva quei capelli tirati indietro, lo stivale, fantastica, un'immagine scenografica meravigliosa, sembrava, come dire, neanche Casalino aveva mai raggiunto vette di comunicazione così efficaci. Dopodiché io le domando, lei è venuta un giorno prima a maggio dal G7, i ristori alle aziende dell'Emilia-Romagna sono arrivate? Risposta no. Allora, la politica non è prendersi like, la politica è risolvere le questioni, la Meloni non lo sta facendo e mi dispiace perché sono un'italiana e faccio il tifo per lei. L'ha visto il libro di De Luca nonostante il PD? Non l'ho visto però, come dire, essendo un... È l'unico segretario del PD che è riuscito a non litigare con De Luca o perlomeno litigarci poco, ecco. De Luca, se c'è uno a cui non può dire nulla, è il sottoscritto, nel senso che... So, gli ha dato un sacco di soldi... Beh, insomma, lei lo sa bene, lei ha fatto un'esperienza... No, però questo mi aiutava... Sì, ma lasciamo stare la mia esperienza. Della ferra dei fuochi? No, no, ma non della sua, sono soldi che gli italiani hanno dato a De Luca perché risolvesse i problemi. Anzi, le posso dire, De Luca è stato un grandissimo sindaco di Salerno, grandissimo, il presidente della regione l'ha fatto peggio di come ha fatto il sindaco di Salerno, meglio di tanti altri, ma il sindaco di Salerno è stato uno dei sindaci top. Ma la mia domanda era legata, insomma, a quel nonostante, e quindi ai rapporti, come sono i rapporti con il PD in questo momento? Di De Luca non lo so, comunque i miei sono sicuramente migliori di quelli che ha De Luca. Si potranno fare candidati comuni alle prossime elezioni amministrative? Sì, in tanti comuni faremo accordi con il PD, in altri comuni faremo accordi con Forza Italia, in altri comuni faremo accordi, non faremo accordi, andremo da soli. Alla Mastella, tanto per rimanere in campagna? Mi sembra un giudizio un pochino, diciamo, superficiale, però va bene, Clemente fa il sindaco a Benevento, lo fa anche bene, anche lui, quindi voglio dire non mi metto su questo. Però, mettiamola così, il tema non è alla Mastella, né alla Craxi, né alle mani libere. Il tema è una forza di centro, sceglie di volta in volta il candidato migliore e quindi se vuole dire che questo argomento porta a appoggiare, che ne so, le faccio un esempio dove ci siamo, in Emilia Romagna Stefano Bonaccini, io in Emilia Romagna appoggio Stefano Bonaccini, se a Genova c'è Marco Bucci, che è di Forza Italia, Stefano Bonaccini è del centro-sinistra, Bucci è del centro-destra, io appoggio, sta facendo un esempio al passato, facevo l'esempio, ripeto, al passato non vorrà mica che ci caschi nel suo giochino di fare gli esempi sul futuro. No, perché siamo qua in Piemonte, in Piemonte con chi correte? Cirio è candidato, condite col centro-sinistra, andate da soli. Chi correrà per il centro-sinistra? Questo non lo sappiamo. I candidati, io penso che Cirio non lo sappiamo ancora. è governato meglio delle aspettative. Azione, ha già detto che sta andando verso... Io ho un ottimo rapporto personale, spero di non farle del male con Chiara Gribaudo, perché è una ragazza che è cresciuta nella mia segreteria, una ragazza che stimo molto, non so se ci saranno altre candidature, però noi decideremo sulla base delle valutazioni, faremo le valutazioni a tempo debito, nel senso che non abbiamo assolutamente scelto e soprattutto noi siamo un partito democratico, ha fatto un congresso per cui sceglieranno gli organi di Torino e del Piemonte. Siamo con lo russo, sta facendo un buon lavoro, gli auguro di farlo ancora più incisivo nei prossimi mesi, perché è importante che ci sia, ho un ottimo rapporto con Damilano. Alla fine dico a tutti che c'è un brutto carattere, ma vado d'accordo praticamente con tutti. Amato la commissione artificiale? 85 anni? L'intelligenza artificiale? 85 anni? Diciamo che è un grande esperto di intelligenza, non so quanto di intelligenza artificiale. Avrei scelto qualcun altro, penso che a un certo punto se guardo quello che sta facendo tutto il mondo, penso che il taglio che può dargli Giuliano è un taglio diverso. Dice ma io sono molto appassionato della materia, anche io sono appassionato di altre materie, però Giuliano Amato è stato un grandissimo uomo di Stato. Che lei è appassionato della Fiorentina, la Fiorentina non la può allenare. Beh, direi che Vincenzo Italiano non si discute, specie venendo da un 6-0 tennistico ieri in Conference League, però se la domanda è cosa ne pensi di Amato dell'intelligenza artificiale, Amato molto bene sull'intelligenza, ma sull'intelligenza artificiale avrei fatto una scelta diversa. Nonostante le polemiche, gli inviti, il possibile conflitto col suo Stato di senatore, è tornato in Arabia Saudita. E sono molto contento. Non crede che la danneggi politicamente? Ma possono... Con tutti, perché ha ricevuto attacchi destra, sinistra, c'è stato un... Sono sette anni che mi attaccano su tutto e io sono sempre qua. Mi hanno costruito processi mediatici e processi falsa perché comunque alla fine abbiamo dimostrato in tutte le vicende che ne usciamo puliti. Ci hanno massacrato mediaticamente, siamo la patria delle fake news secondo Facebook, mi hanno detto di tutto. Infatti la mia domanda era nel consenso politico che in questi anni... Io penso che... Voglio dire, voglio parlare un guaglio... È stato ondeggiante e adesso siete a combattere... No, io sono stato il più popolare d'Italia e sono diventato il meno popolare d'Italia. Quindi, posso dirle, è anche un'esperienza che mi sarei volentieri risparmiato, ma è anche un'esperienza che umanamente ti aiuta perché tu sei in grado di fare... di vedere in faccia le persone che prima ti, diciamo, adulavano per non dire parole meno educate, edulcorate e che poi ti pugnalano. Sono pieno di gente che mi ha pugnalato alle spalle perché non hanno nemmeno il coraggio di guardare in faccia. Però io sono qua e ho una ambizione e una pretesa. L'ambizione e la pretesa è quella di parlare il linguaggio della concretezza e della verità. Allora, il mondo non è più il mondo di 50 anni fa. Ci sono delle potenze mondiali straordinariamente forti con le quali occorre parlare e ragionare. L'Arabia Saudita, come io ho detto tre anni fa, nel silenzio di tutti, in realtà lo penso a dieci anni, ha una leadership straordinariamente visionaria. Questa leadership, lo vediamo, sta producendo... che ha dei parametri democratici ancora da costruire, se diciamo... No, direi che ha dei parametri democratici, rispetto alla democrazia e alla democrazia, non c'è. Non è che c'è un parametro democratico. L'Arabia Saudita, ci sono un progressivo, una progressiva estensione dei diritti, ma è un paese che dove dieci anni fa le donne non guidavano. Questo leader ha preso e ha messo, Mohammed Bin Salman, ha iniziato a dare più diritti, partendo da un punto che per noi è inimmaginabile. Allora, sono due standard diversi, ma io non entro sul tema dei diritti, faccio un ragionamento leggermente più ampio e dico, c'è un problema geopolitico, l'Arabia Saudita ed altri stanno giocando un ruolo importante, il mondo sta andando a pezzi. Avere qualcuno che va agli incontri internazionali, viene ascoltato, dialoga e parla, secondo me è utile, non è un fatto negativo. E posso dirle, l'elemento non è che io vado a fare le conferenze dall'America alla Cina, dall'Arabia Saudita alla Thailandia, dall'Europa all'Africa. Il punto vero è che gli altri non ci vanno. Cioè, se chiamano solo me, è un problema per gli altri. Perché evidentemente a me riconoscono un ruolo che io voglio mettere a servizio dell'Europa candidandomi in Europa. Gli altri non se li fila nessuno. Dopodiché dice, ma le conferenze internazionali ti pagano per ascoltarti. Mi ha tolto, stavo per fare le domande e si dà anche le risposte. No, ma anche mia moglie dice io, come dire, allora se ti devo pagare per ascoltarti a me dovrebbero farmi un vitalizio tutte le volte che sei stato a casa. Ma il concetto di fondo è che in tutto il mondo gli ex premier fanno sta roba qua. In Italia l'hanno fatta in tanti perché l'ha fatta proprio. Ad esempio Obama non è più senatore. Adesso ha fatto un grande paragone. Sì, ma vi faccio un esempio. Theresa May, primo ministro inglese, è membro del Parlamento. Boris Johnson, che ha uno standard diverso, lo è stato fino a qualche tempo fa. i tedeschi hanno il meccanismo per cui alcuni lasciano il Parlamento, altri no. Verostadt, che è un bravo parlamentare europeo, non so se si ricadiderà, forse no, fa le conferenze e fa il parlamentare europeo. Perché? Perché è un ex primo ministro del Belgio. La verità è che noi siamo un po' provinciali e quelli che mi contestano non è perché mi vedono parlare all'estero, mi contestano perché vorrebbero che io stessi zitto in Italia. Sa quanti erano contenti quando io dicevo vado solo a fare le conferenze all'estero? Poi sono tornato, ho mandato a casa Conte e ho portato Draghi. Allora lì si sono arrabbiati per l'Arabia Saudita. Fino a prima, quando continuavo ad andare in Arabia Saudita come negli altri posti, ma non davo noi a Conte, i cinque esterni non aprivano bocca su sta roba. Hanno iniziato a arrabbiarsi non per le cose che dicevo all'estero, ma per quello che gli ho combinato in Italia e io ne sono fiero di avermi mandato a casa quelli del reddito di cittadinanza. Un paese diciamo moderato. Qual è la loro posizione in questa nuova guerra che tragicamente stiamo raccontando? Purtroppo in tanti dicono e forse non hanno torto che proprio la leadership intelligente e visionaria che ha Riyadh e che stava portando a fare l'accordo con Tel Aviv ha causato... I famosi accordi di Abramo? Gli accordi di Abramo li hanno fatti con il Marocco, li hanno fatti Israele con il Marocco, con il Bahrain, con Emirati Arabi Uniti, Egitto e Giordania avevano già rapporti quindi gli accordi di Abramo non hanno riguardato formalmente l'Arabia Saudita ma stavano parlandosi e per la prima volta un ministro israeliano è andato in Arabia Saudita che nella storia delle relazioni tra i due popoli è una storia veramente innovativa quindi stavano lavorando. A quel punto i terroristi di Hamas che sono il male, i terroristi di Hamas sono... non dico delle bestie perché io stima delle bestie, i terroristi di Hamas sono ben oltre, hanno fatto delle cose che sono incredibili, chi ha visto delle foto si rende conto che c'è un dolore che è inesprimibile, i terroristi di Hamas hanno scelto il momento giusto per cercare di dividere il mondo arabo. Adesso la vera scommessa è non mettere arabi contro ebrei e non mettere il popolo israeliano contro il resto del mondo ma l'obiettivo è quello di dividere tra chi ama la vita e chi ama la morte e questo è un passaggio importante per cui è fondamentale per Israele non perdere il rapporto con le grandi leadership riformiste arabe e credo che questo sia un tema complicato perché c'è tutto un passaggio sulla comunicazione in quanto se lei accende Al Jazeera o la tv turca tutti i giorni vede le polemiche contro gli attacchi di Israele che naturalmente devono rispettare le regole del diritto internazionale però il problema vero è che la comunicazione ha senso unico quando c'è la storia dell'ospedale è chiaro che quella storia è un razzo è uno dei 5.000 razzi mandati da Hamas contro Israele è un tema molto molto complesso e arriviamo proprio all'ultima domanda che ha toccato oggi l'ONU dice Hamas ma Israele stanno commettendo forse dei crimini di guerra tutte e due io credo che paragonare Hamas a Israele sia una follia una roba che non sta né in cielo né in terra quindi chi lo dice l'ONU diciamo che lì lei sa come funzionano alcune questioni all'organizzazione delle Nazioni Unite e a me piacerebbe un'ONU che risolve i problemi non che fa dichiarazioni di principio molto spesso e basato sull'ideologia allora Hamas è a mio giudizio la stessa cosa dell'Isis Hamas è un'organizzazione che uccide le persone per la loro fede per la loro etnia che è intervenuta nelle case ha violentato le bambine ha bruciato i neonati ha violentato le donne ha fatto delle cose inaudite ed ha ucciso naturalmente a freddo guardate quello che ha fatto Hamas per capire che Hamas è l'organizzazione che ha ucciso più palestinesi di tutti perché i due milioni di persone che vivono a Gaza ora sono molti meno non sono altro che ostaggi di Hamas poi è chiaro che bisogna garantire due cose a Israele la sicurezza e ai bambini di Gaza un diritto all'educazione alla sanità a vivere i propri sogni a crescere in prosperità e pace a tutti allora siccome questo è il problema di fondo oggi il colpevole è Hamas poi Israele deve avere una reazione che sia coerente con le regole del diritto internazionale ma queste dichiarazioni dell'ONU non stanno né in cielo né in terra grazie a Matteo Renzi a voi